ciao io sono francesco sono pedito chimico e dottor in chimica industriale in questo video vi parlo dell'equilibrio chimico consideriamo una trasformazione fisica se mettiamo dei cubetti di ghiaccio in un bicchiere d'acqua assistiamo a due fenomeni in apparenza contrastanti il ghiaccio fonde ma contemporaneamente alcuni cubetti si saldano tra di loro evidentemente un po di acqua solidifica saldando i pezzi di ghiaccio in queste condizioni infatti il ghiaccio fonde ma il processo inverso è ugualmente probabile i fisici e chimici in casi del genere parlano di equilibrio dinamico fra stato solido e stato liquido le molecole di ghiaccio passano in continuazione allo stato liquido bilanciate da altrettante molecole d'acqua che si trasformano in ghiaccio un sistema è in equilibrio dinamico quando le velocità delle trasformazioni opposte sono uguali l'equilibrio che abbiamo descritto comporta il passaggio tra stato solido e liquido ed è chiamato equilibrio di fase quando una trasformazione fisica o chimica giunge all'equilibrio le condizioni di reversibilità e dinamicità sono indicate da una doppia freccia l'equilibrio dinamico può instaurarsi anche in una trasformazione chimica in questo caso anziché fasi diverse avremo a sinistra le agenti a destra prodotti quindi si parlerà di equilibrio chimico le situazioni di equilibrio dinamico tuttavia non sono frequenti natura poiché essi richiedono sistemi chiusi cioè privi di scambi di materia con l'ambiente mantenuti alla stessa temperatura dell'ambiente esterno comunque finché queste condizioni sono garantite il sistema diventa l'equilibrio e in esso non avvengono più variazioni osservabili a livello macroscopico nonostante l'apparenza però nel mondo infinitamente piccolo degli atomi delle molecole le trasformazioni di rete e inversa avvengono in continuazione con velocità identiche consideriamo perciò l'equilibrio chimico in laboratorio le relazioni chimiche avvengono spesso in sistemi che con buona approssimazione possiamo considerare chiusi supponiamo per esempio di chiudere una certa quantità di ioduro di dirogeno che è un gas in colore in un pallone di vetro in modo che la sua concentrazione sia unomolare a temperatura ambiente quindi 298,15 kelvin gli utili fra molecole non sono sufficienti a superare le energie di attivazione e pertanto non avviene alcuna reazione a 700 kelvin invece gli utili dalle molecole di ioduro di idrogeno provocano una reazione chimica di decomposizione 2 hi che da una molecola di idrogeno e una molecola di iodio a 700 kelvin e un'atmosfera la trasformazione avviene a velocità di 33 millimoli sul litro per minuto di ioduro di idrogeno decomposto a poco a poco notiamo la comparsa di una colorazione viola dovuta a formarsi di gas di iodio e di idrogeno la reazione potrebbe andare avanti così fino alla decomposizione completa degli utili d'idrogeno invece appena iniziano a formarsi lo iodio gassoso e idrogeno gassoso si verifica un fenomeno inatteso le molecole dei prodotti iniziano a reagire insieme per dare di nuovo gli utili d'idrogeno a una velocità tanto più elevata quanto maggiore è la loro concentrazione da una reazione di decomposizione si passa a una reazione di sintesi alla temperatura di 700 kelvin la reazione di decomposizione non è completa ma raggiunge un equilibrio in cui la concentrazione di ioduro di idrogeno non sa nulla e le concentrazioni di idrogeno e di iodio sono uguali e minori di 0,5 morale all'equilibrio le concentrazioni reagenti e dei prodotti rimangono costanti dopo poco tempo la velocità della reazione di formazione di ioduro di idrogeno diventerà uguale alla velocità di decomposizione le concentrazioni di ioduro di idrogeno, idrogeno e iodio a questo punto rimarranno costanti a meno di un intervento esterno la reazione è aggiunta quindi l'equilibrio anche in questo caso indichiamo l'equilibrio con la doppia freccia le due frecce hanno la stessa lunghezza per indicare che le reazioni di retta in vessa avvengono all'equilibrio con uguale velocità all'equilibrio chimico le concentrazioni di reagenti e dei prodotti non variano nel tempo e la velocità di direzione diretta è uguale a quella in vessa le concentrazioni di iodio, idrogeno e ioduro di idrogeno all'equilibrio non sono prestabilite ma dipendono dalle concentrazioni iniziali dei reagenti e dei prodotti dalla pressione e anche dalla temperatura l'equilibrio chimico è sempre infatti un equilibrio dinamico la situazione di equilibrio non va confusa con quella di inezia chimica causata dall'incapacità di superare l'energia di attivazione per esempio una miscela di ossigeno e azoto non è l'equilibrio anche se le concentrazioni dei reagenti rimangono sempre costanti nel 1864 il matematico Kato Goldberg e il chimico Peter Voge entrambi i norvegesi noterano che all'equilibrio esisteva un rapporto costante tra le concentrazioni dei prodotti e quelle dei reagenti elevate al loro coefficiente stoichiometrico considerando sempre questa relazione 2HI che dà una molecola di idrogeno a una luna di iodio la relazione è la seguente le parentesi quadre esprimono alle concentrazioni i modi sull'itro notiamo che il denominatore è elevato al quadrato poiché il coefficiente stoichiometrico davanti all'odio duro di idrogeno è 2 queste altre osservazioni hanno portato alla formulazione della legge dell'equilibrio chimico nota come legge dell'azione di massa che per una generica reazione si traduce in questa espressione l'annunciato della legge di azione di massa è la seguente in un sistema chimico d'equilibrio a un'adatta temperatura e pressione il rapporto tra il prodotto delle concentrazioni molari dei prodotti e il prodotto delle concentrazioni molari dei reagenti elevate ciascuna al proprio coefficiente stoichiometrico è costante ricaviamo le seguenti regole per calcolare la costante di equilibrio le concentrazioni dei prodotti si pongono al numeratore e quelle dei reagenti al denominatore con tutte le concentrazioni in unità di misura moli sull'itro e sono indicate tra le analisi quadre le concentrazioni poi vanno moltiplicate tra loro ed elevate a potenza con i rispettivi coefficienti stoichiometri di reazione dell'agente o del prodotto la grandezza della costante di equilibrio k e q ci fornisce un'indicazione diretta di quanto la reazione sia spostata verso la formazione dei prodotti una volta che l'equilibrio è stato raggiunto se la costante di equilibrio è molto grande la reazione procede quasi fino al completamento e l'equilibrio è spostato verso destra se la costante di equilibrio è circa 1 o un valore molto prossimo all'equilibrio le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti sono praticamente uguali se la costante di equilibrio è molto piccola quindi molto più piccola di 1 la reazione inversa è favorita e l'equilibrio è spostato a sinistra le concentrazioni dei reagenti quindi sono maggiori di quelle dei prodotti nelle reazioni omogenee in fase gassosa possiamo esprimere la costante di equilibrio anche in termini di pressioni parziali di gas in questo caso la costante è indicata con kp e nell'espressione della legge di azioni di massa non saranno presenti le concentrazioni morali delle sostanze ma le pressioni parziali di gas elevate al rispettivo coefficiente schematico nel video precedente abbiamo visto come le reazioni procedono perfettivamente nella direzione in cui i legami diventano più stabili quindi delta H minore di 0 e il disodio aumenta che si traduce con T per delta S maggiore di 0 ma che connessione c'è tra questo criterio ed equilibrio chimico? a mano a mano che la relazione procede nella formazione dei prodotti il valore di delta H si mantiene pressoché costante favorendo i reagenti sia la relazione endotecnica o i prodotti sia esotermica nella situazione ottimale la stabilità dei prodotti è puri e la tendenza a raggiungere lo stato di massimo disodine e massima entropia che si traduce in delta H uguale a T per delta S alternativamente possiamo scrivere che delta G è uguale a delta H meno T per delta S uguale a 0 in tale stato non c'è convenienza a formare più prodotti o reagenti poiché l'energia libera G si trova al valore minimo possibile come si vede da questo grafico il valore della costante di equilibrio K e Q varia con la temperatura per ogni temperatura infatti esistono all'equilibrio un diverso valore di K e Q e diverse concentrazioni di reagenti ai prodotti possiamo dimostrare quanto abbiamo affermato con un semplice esperimento due fiali di vetro sigillate contengono la ventesima miscela di equilibrio di due gas una è tra ossido di azoto N2O4 che è in corone e l'altra è di ossido di azoto N2O2 che è rosso questi gas esisteranno in equilibrio tra di essi introducendo una fiala in acqua bollente possiamo notare gli intensificarsi della colorazione rossa perciò la concentrazione di diossido di azoto cresce introducendo la fiala in acqua e ghiaccio abbiamo una diminuzione della colorazione rossa e la miscela appare giallina che testimonia la diminuzione della concentrazione di N2 in soluzione la variazione delle costanti di equilibrio infatti spiega questo fenomeno a 25 gradi la costante di equilibrio vale 4,5 per 10 alla meno 3 a 100 gradi la costante di equilibrio aumenta di circa 58 volte ed è pari a 260 per 10 alla meno 3 mentre a 0 gradi la costante di equilibrio è 8 volte più bassa cioè 0,59 per 10 alla meno 3 avvassando la temperatura la costante di equilibrio diminuisce si tratta quindi di una reazione endotermica da queste osservazioni possiamo concludere che nelle reazioni isotermiche delta H minore di 0 la costante di equilibrio diminuisce all'aumentare della temperatura bene ragazzi se siete riusciti a seguimi fino a qui siete stati grandissimi ricordatevi che la chimica richiede pazienza e soprattutto molta comprensione quindi io vi ammiro se avete la pazienza di guardare i miei video se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video ci vediamo al prossimo ciao